Da quest'estate potrebbe tornare il collegamento tra Pescara e l'altra sponda dell'Adriatico. Traghetto catamarano l'importante è il ripresino della rotta verso la Croazia. A darle notizie il capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, l'indomani di un incontro tra Regioni Abruzzo, Comune di Pescara, Camera di Commercio Chieti Pescara e Porto Turistico Marina di Pescara, perché proprio dal Marina dovrebbe partire l'imbarcazione verso i nostri dirimpettai di mare. In atto già da diverso tempo una triangolazione fruttuosa tra Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Camera di Commercio Pescara Chieti, ovviamente il Marina di Pescara che ha un ruolo importante in questa vicenda. Si sta lavorando su vari fronti. Uno per iniziare l'attività di escavo per dare la possibilità al traghetto di entrare e uscire, traghetto all'escafo per il vettore che sarà individuato. Dall'altro si sta lavorando per avere tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere i lavori. Nel frattempo tra breve sarà emanato da parte della Camera di Commercio di Pescara Chieti un bando esplorativo per capire se c'è disponibile un vettore in grado già dal 2022 di poter riprendere i collegamenti da e per la Croazia. Sarebbe un ulteriore obiettivo importantissimo da raggiungere perché la centralità di Pescara e dell'Abruzzo, tutta la dorsale adriatica è un obiettivo fondamentale. Riprendere una base logistica a Pescara è altrettanto importante sotto l'aspetto turistico, sotto l'aspetto commerciale, sotto l'aspetto anche di eventuali risvolti economici e finanziari per tutte le attività che insistono nel porto. Ovviamente se tutto questo lavoro preparatorio non porterà già nel 2022, che è comunque il nostro obiettivo principale, a riprendere il tragitto da e per, tutto questo servirà per il 2023 per essere pronto. Noi siamo qui al Marina di Pescara perché sembra che il traghetto o all'iscafo che sia possa partire proprio dal porto turistico. Esattamente, i lavori saranno effettuati proprio all'avamporto del Marina, che ripeto è il braccio operativo della Camera di Commercio e quindi tutte le amministrazioni stanno facendo i compiti a casa per ridare centralità all'Abruzzo e a Pescara per quanto riguarda uno scambio fondamentale che ha visto in qualche maniera caratterizzare la nostra città già ai tempi della Tiziano e quindi potrebbe riprendere dopo due o tre anni di inattività. Grazie. Grazie.